musica musica leviamo il rosso da brillante perché dopo un po' fa male eccolo qui il nuovo macbook air 2020 perché è una novità perché i tanti lo aspettavano lo desideravano c'è una nuova architettura un'architettura proprietaria quindi fatta direttamente da casa apple che si distacca finalmente dalla famiglia intel che abbiamo visto fino ad ora perciò abbiamo un nuovo chip chiamato m1 poi naturalmente avrà una sua nomenclatura quindi prossimo anno probabilmente vedremo un m2 fra due anni un m3 così via che da quanto promesso dalla casa di copertino dovrebbe promettere scusate la ripetizione del termine grandi prestazioni in questo modo apple risparmia sulla costruzione sia a livello di costo sia a livello di gestione può finalmente costruire un qualcosa di totalmente suo perciò massima compatibilità con tutto l'ambiente apple e per il resto vi invito a visualizzare altrove attraverso video di youtube perché tanti ne hanno parlato e anche delle recensioni in generale sul web io comunque voglio fare una premessa voglio menzionare andrea andrea galeazzi perché ha sollevato evidenziato un aspetto che in pochi hanno presentato ovvero l'architettura a rm o arm chiamatela come volete questa architettura non è nuova quindi apple già la conosceva ora la finalmente applicata ma comunque il mercato in generale ha già visto questo tipo di architettura è un'architettura che purtroppo ha avuto cattiva pubblicità per così dire in diretta con microsoft perché durante questi ultimi anni attraverso dei suoi dispositivi come windows mobile o i tablet pc surface c'è stata una cattiva gestione per quanto riguarda la rm questa rm da parte di ms dalla cassa di redmond non funzionava a 360 gradi nel senso che molti programmi non erano più compatibili non potevano più essere eseguiti quindi con un sistema operativo windows si poteva solamente scaricare avviare riprodurre software derivante solamente dal microsoft store e non da applicativi per 32 per 64 bit con apple la situazione è completamente diversa perché con la rm tutti i programmi che sono girati fino ad ora anche con naturalmente con tecnologia intel adesso si possono ugualmente avviare quindi la suite di adobe la suite di microsoft office autodesk eccetera eccetera si può liberamente riprodurre utilizziamo questo termine su questi nuovi dispositivi quindi non ci sono dei problemi per quanto riguarda la compatibilità addirittura apple ha permesso di avviare ad eseguire le applicazioni i giochi che sono presenti in ios ipad os quindi abbiamo molta 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 più compatibilità io ora voglio avviare il cronometro per farvi vedere la velocità di questo ssd basta sollevare aprire il monitor avvio e vediamo quanto tempo ci rimane prima che il sistema operativo sia completamente pronto ok ci ha impiegato solamente 13 barra 14 secondi veramente una scheggia allora abbiamo un display io desiderava il touch perché appunto come ho detto fino a poco fa abbiamo ora le applicazioni ios e pad os quindi visto che c'è una grafica per così dire il responsive potevamo fare magari un pannello touch in modo tale da interagire più facilmente con le applicazioni mobili ma comunque al di là di questo abbiamo un display da 13.3 pollici di diagonale un 227 ppi un 2560 per mille e 6 pixel 400 nits di luminosità sulla versione pro abbiamo 100 nits in più ma non c'è comunque tutta questa differenza allora per quanto riguarda la tastiera finalmente abbiamo un qualcosa di per così dire completo nel senso che ci sono stati dei momenti dove apple ha voluto volontariamente cambiare la tastiera per migliorare l'esperienza non c'è riuscita sempre questa volta ha trovato la destinazione perciò è una tastiera completamente comoda dove la corsa è veramente giusta quindi non c'è una corsa troppo breve non c'è una corsa troppo lunga ci si iscrive benissimo tasti distanziati un trackpad in vetro con feedback haptico molto molto sensibile devo dire allora voglio far sentire l'audio apriamo il browser apriamo safari ok come potete sentire c'è un audio molto molto bonto ben fatto ora magari abbasso leggermente per farvi vedere un po il monitor le sue varie angolazioni così potete farvi un'idea colori veramente gestiti benissimo come hardware vi do le caratteristiche principali abbiamo un ssd come vi ho detto prima da 256 gb poi abbiamo una ram da 8 gb una cpu da 8 core una gpu da 7 core poi se andiamo nella configurazione più alta quindi andiamo ad un prezzo più elevato abbiamo una gpu ad 8 core e naturalmente un ssd con maggiore volume fino a 2 terabyte questo di base costa 1159 poi vedete un po voi in base alle vostre esigenze quale prendere basta andare a fare a vedere più che altro una configurazione attraverso il sito ufficiale di apple io ora volevo un attimino farvi vedere il cavo il cavo da due metri un usb c usb c un cavo abbastanza resistente e flessibile fra l'altro con un caricabatteria da 30 watt una batteria da 49.9 watt ora garantite 18 ore comunque vi tornerà naturalmente di meno qualche ora in meno a fine giornata potete arrivarci benissimo sulle 12 barra 14 ore ve le ve le fa tutte ritornando all'aspetto dei programmi molte case produttrici stanno convertendo i loro applicativi per renderli pienamente compatibili con m1 al momento le ca alcune case più importanti come adobe non hanno ancora fatto questa questa conversione ma sono comunque avviabili i programmi della della suite attraverso una un simulatore chiamato rosetta quindi grazie a rosetta possiamo in questo momento avviare anche dei programmi che non sono stati riprogettati per questo tipo di hardware architettura veramente veramente compatto leggero non scalda molto rispetto al pro non l'ho potuto provare ma da quanto ho sentito il pro riscalda veramente tanto non c'è la presenza di ventoli quindi molto 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 silenzioso gira tutto correttamente non ci sono stati problemi per quanto riguarda lavori pesanti io per esempio ho fatto delle conversioni di alcuni video in 4k 60 fotogrammi al secondo con delle conversioni che dove la batteria durava circa 4 5 ore delle conversioni risultate molto veloci perché appunto abbiamo un hardware che promette di gestire molte operazioni al secondo e perciò per quanto riguarda prestazioni qui siamo al sicuro se volete spingervi molto dove dovete passare a un macbook pro perché almeno lì avete un hardware anche se non di molto ma comunque avete un hardware che vi consente di seguire dei programmi veramente veramente pesanti sempre per quanto riguarda il macbook pro abbiamo lì la touch bar qui naturalmente assente visto che si tratta di una versione economica la touch bar comunque secondo me per certi aspetti è molto molto comoda rispetto ad utilizzare una combinazione di tasti pure andare a scovare delle impostazioni quando al limite le abbiamo qui appunto attraverso la touch bar perciò io vi consiglio comunque di provare se avete l'occasione la touch bar così potete vedere la comodità di quella tecnologia però è una normale tastiera abbiamo un layout standard perciò non ci sono assolutamente problemi per quanto riguarda il sistema operativo il sistema operativo è mac os big sar è uscito poche settimane fa ho fatto un video in merito ve lo lascio naturalmente descrizione così potete vedere le novità principali non ci sono tante novità ma comunque c'è un rinnovamento della grafica che mi è molto piaciuta abbiamo delle nuove trasparenze abbiamo dei nuovi effetti audio molto piacevoli e perciò per sapere di più vi rimando a quel video ritornando al fatto della compatibilità dei programmi vi ho detto già a tutto all'inizio video ma comunque c'è da sottolineare che ancora mac os non esegue determinati applicativi che riguardano alcuni campi lavorativi ad esempio nel mio caso o faccio la professione geometra molti software non sono compatibili non possono essere proprio installati come voltura doc fa eccetera eccetera perciò in quel caso serve proprio windows anche questo macbook può eseguire in virtualizzazione windows 10 o in generale qualsiasi versione di windows grazie a dei programmi come parallels io non ne ho parlato in altri video perciò magari anche questo aspetto andate ad approfondirlo altrove ma comunque vi ho anticipato che se avete l'esigenza di eseguire del software particolare di terze parti potete benissimo virtualizzare windows 10 in macchina virtuale magari così potete lavorare a 360 gradi comodo comodo il tasto dedicato al touch di maniera tale da fare un accesso velocissimo senza l'immissione di password non solo nella via del sistema operativo ma anche quando dovete magari consentire determinate operazioni come l'installazione di alcune applicazioni o altre altre cose similari e con tutte queste cose ho detto tutto vi ho evidenziato le caratteristiche principali di questo dispositivo poi ripeto per andarlo ad approfondire andate sul sito apple andate a vedere altre altre recensioni anche magari fatte meglio così insomma potete capire al meglio questo macbook e io Grazie a tutti.